Cambio al vertice del Palazzo di Giustizia di Vallo della Lucania, Elisabetta Garzo dal prossimo aprile lascerà la presidenza del presidio giudiziario cilentano per un trasferimento richiesto da tempo. Il suo nuovo incarico sarà presso il Tribunale di Napoli Nord, recentemente istituito e che ha sede ad Aversa. La nomine è arrivata due giorni fa dal Consiglio Superiore della Magistratura. Il plenum tuttavia non ha provveduto a disegnare ancora il sostituto della Garzo e fino a quando non sarà nominato il Tribunale di Vallo sarà guidato dal giudice De Angelis nel ruolo di presidente facente funzione, come già avvenuto negli anni passati. Prima del passaggio di consegne tra l'ex presidente Tringali e la Garzo, in quel caso a guidare il Palazzo di Giustizia fu il giudice Nicola Graziano. Il presidente Garzo lascia il cilento con un bilancio più che positivo, diverse le attività giudiziarie portate a termine in questi anni. Giunta a Vallo il 24 marzo del 2010, dopo aver guidato la prima sezione della Corte d'Appello del Tribunale di Santa Maria Capoavetere, con importanti processi contro la Camorra, in particolare il clan dei Casalesi, nel cilento si è trovata di fronte a casi di altra natura, dagli abusi nell'asilo Santa Teresa di Vallo della Lucagna, arrivando ad emettere la condanna di primo grado, otto anni per la sua era perroviana Soledadda, alla morte della professora Francesco Mastro Giovanni, anche in questo caso la Garzo, in 36 udienze, è arrivata ad emettere la sentenza di primo grado. Ma l'attività della dottoressa Elisabetta Garzo, a sud di Salerno, è stata anche contrassegnata da un profondo rapporto con il territorio. La sua opera non sarà certo dimenticata.